Premo Dipinto è il presidente dell'ordine francescano secolare d'Italia e in quest'anno è anche il responsabile a turno del movimento francescano italiano. È qui al Festival Francescano di Rimini 2014. Il tema di quest'anno è la perfetta Letizia. Che cos'è per un francescano laico, la perfetta Letizia? Sì, grazie. L'esperienza che ci narrano le fonti francescane, il racconto di Francesco che bussa davanti alla porta del convento e viene rifiutato dai suoi frati, non gli viene più riconosciuto il ruolo, il potere, l'autorità. È un'esperienza che dovremmo cercare di vivere e testimoniare nelle relazioni. A partire dalle relazioni tra noi, nelle nostre fraternità, è maggior ragione poi tirarle fuori, sperimentarle proprio nelle relazioni che viviamo per la strada con la gente. Ogni volta che si è rifiutati dall'altro, che l'altro non ci riconosce il nostro ruolo, la nostra autorità e non ci riconosce chi siamo, ecco è lì che si sperimenta la fatica di cui parla Francesco ed è lì che si ha bisogno di offrire una risposta nuova attraverso un percorso che poi è un percorso che chiaramente trae la sua origine nella relazione con Cristo. Per l'ordine francescano secolare, il Festival Francescano che cos'è? Il Festival Francescano è un'esperienza a mio parere straordinaria, a nostro parere lo è. È un evento nato, ideato dal Movimento Francescano dell'Emilia Romagna, voluto proprio per permettere francescani di stare tra la gente perché questa poi è la nostra dimensione, questo è il nostro ambiente. Qui siamo, qui cerchiamo di esprimere il nostro carisma non attraverso parole, anche se è pieno di convegni, di occasioni di dialogo, ma attraverso la relazione. La cosa straordinaria e bellissima dell'ambiente che viviamo in questi giorni qui è il fatto di vedere francescani col saio o senza saio o suore che incontrano le persone, passano del tempo con loro, stanno con loro e cercano di testimoniare quella gioia che quest'anno è il centro del tema. Ultima domanda, forse doveva essere la prima, l'ordine francescano secolare in Italia in questo momento che cos'è? L'ordine francescano secolare si compone di tante persone, di tanti francescani secolari, laici per lo più, che cercano di vivere proprio l'esperienza che ci ha offerto Francesco come dono straordinario del Signore. È un'esperienza che cerchiamo di vivere innanzitutto nella nostra vita quotidiana, nelle nostre famiglie, sul luogo del lavoro. Ecco lì, proprio lì, cerchiamo di portare l'essenza della proposta che viene da Francesco. Lì cerchiamo di costruire soprattutto relazioni e di farlo a partire dalla relazione che è ciò che edifica proprio alla fine la nostra vocazione, perché è da lì che siamo stati chiamati a questo ed è lì che ci riferiamo per stringere relazioni con tutti quelli che incontriamo. Grazie a tutti.